Sara Ferguson è stata descritta come una forza della natura da un esperto reale, poiché la duchessa è stata nuovamente accolta nell'ovile interno della regina con inviti al castello di Balmoral. La famiglia reale potrebbe fare molto peggio di Sara Ferguson, afferma un esperto reale, mentre la regina accoglie nuovamente la sua ex nuora nei circoli reali. Negli ultimi anni, il rapporto tra sua maestà e la duchessa di York è notevolmente migliorato, ed è stata recentemente avvistata al castello di Balmoral con il suo ex marito, il principe Andrea, dove si stavano unendo alla regina per una vacanza in famiglia. La commentatrice reale Kate Muncy ha dichiarato a Palace Confidential. È stata invitata a Balmoral negli ultimi anni e penso che la regina probabilmente si sia resa conto di avere una sorta di influenza stabilizzatrice su Andrew, è sicuramente la sua più grande fan. Ho preso il tè del pomeriggio con lei e la principessa Beatrice alcuni anni fa, ed è solo una specie di forza della natura. Passa da un argomento all'altro in un batter d'occhio, ha tonnellate di grinta e passione e difenderà Andrew fino all'avvento del regno. Potrebbero fare molto peggio. Con tutte le altre cose che stanno succedendo con i Sussex e l'imminente caso di Andrew negli Stati Uniti. Sarah Ferguson ha recentemente condotto una serie di interviste per promuovere il suo nuovo libro di narrativa per adulti e si è aperta sulla sua attuale relazione con la famiglia reale. Punto. Durante un'intervista al podcast Tea with Twiggy, la duchessa di York ha dichiarato Penso a me stessa che onestamente, mia suocera è stata più una madre per me che mia madre. Lei, non ha mai vacillato. Penso assolutamente che non ci sia un mentore più grande. La coerenza di sua maestà è stata un grande onore. Un grande onore. Mi viene da piangere. Fergie è entrata per la prima volta nella famiglia reale nel 1986, quando ha sposato il principe Andrea nell'abbazia di Westminster. Negli anni successivi al loro matrimonio, intraprese numerosi incarichi pubblici e la coppia diede il benvenuto a due figlie, la principessa Eugenia e la principessa Beatrice.